Ed eccoci qua, signori e signori, guardiamo la scritta Capcom, bella scintillante, come va, signorio Tobi? Molto bene, molto bene, qui siamo nel nuovo episodio del retro, oh, guarda lì, guarda lì! Guardalo, eccolo! Re Artù, con Excalibur, la spada della roccia, Mago Merlino, Anacleto! Destinato a diventare il re! E siamo qua per fare Knights of the Round, che ha fatto stanosa così giusto per voi. Sto stronzo! Secondo me ha suonato e basta, voleva salmi! Davanti! E niente, le opzioni io sono d'accordo! 60 tassi ci sono come al solito! Esatto, e questo gioco che è uno dei tanti e... Ho parcheggiato in seconda fila perché non lo so! Knights of the Round, guarda che bello Legolas! No, quello non è Legolas! No, aspetta! Knights of the Round, dicevo, questo è uno dei tanti emuli, emuli... ...ehm... ...di Axe! Golden Axe, esatto! Chi prendi, seorio Tobi? Io, Artù! No, non puoi, lanci il lotto, lanci il lotto! Ma io prendo Artù! Va bene, che è quello più bilanciato, non potevano essere due Artù! Mario e Roberto Artù, non potevano... No, no... C'è Parsifal, anche che c'ha il suo bel perché... Ma che belli disegni che sono, comunque! Infatti li ho saltati proprio a più a pari! Guardalo, era Marco Merlino! Marco Merlino! Marco Merlino! Marco Merlino! Guardalo come noi, minicose... Citorfoni. Guarda quello che aspetta che... Sembrava Assassin's Creed che aspetta che faccia fuori, e dopo arriva lui. Esatto. Questa è questa ricorsa, ma è morto miseramente! Ha preso una ricorsa molto alla Warner Bros., Sul posto. Ello fermo! Col fumo! Eccomi! Ok! Allung! Tu cosa c'hai? La Durlindana! Come si chiama? La sciabola! La sciabola! Eh, però aveva un nome. Eh, adesso non mi ricordo. Chiedimi anche i nomi delle renne di Babbo Natale, già che ci sei. Rudolf la so. C'hanno fatto tanti di quei film su Rudolf. Esatto. Poverino Rudolf. Ho trovato dei soldini. Com'è arrivato quello lì? Volando proprio. È arrivato in un modo rotolando. Ecco qua. Ma perché quelli che hanno i capelli lunghi sembrano sempre un po' delle donne come personaggi? È come Androme, Androme da Dei Cavaliere dello Zodiaco. Esatto. Quello che mangiava sempre le catene di messaggi. Da qui appunto catena di Andromeda. Non è mia, non è mia, lo dico subito. Oddio, stiamo contro il gran ciambellano. Dov'è? Cosa fa le ciambelle senza buchi? Non lo so, però guarda, si stava mettendo a posto il casco. Guarda che casino, all'americana, all'americana. Aspetta, vengo un attimo da sto stronzo che secondo me aveva bisogno. Se io te lo tengo fermo, tu gli fai una Powerball. Guarda che se la ride. Ma sono morto io, com'è possibile? È arrivata la Durlindana. Ma mi ha dato due colpi, due colpi. Vabbè, io prendo gli scagnozzi, vabbè, ho capito. Guarda, colpo segreto del Dragonascente. Ma fagli una Powerball. Guarda che con un colpo ti hai visto. Ma do, bastard. Tiè, tiè. Dai che lo sto per uccidere. Sì, è morto. Ah, per proprio fino a l'ho do io. È andata, andata. Ce l'abbiamo fatta. Guarda che se ne va via. Con le pive nel sacco. È il ciampato, è il ciampato. Vediamo se anche nella versione per Super Nintendo c'era la cosa figa di questo gioco. Sì, a parte la musica che mi stordisce ogni volta. Vediamo, vediamo. L'esperienza? No, che aumenta l'armatura. No. No, l'esperienza, il livello sale. Ah, probabilmente ad un certo livello sale la... Cioè, cambia l'armatura, dici? No, abbiamo la spada, è cambiata. È cambiata? Non ho visto, no, non me ne sono accorto. È cambiata? Sembrava diversa. Ah, è nera la tua. È la mia già... Non mi ricordo come fosse. Adesso... Amaranto! E com'era? Amaranto! E' qua. Però potevano metterlo tipo un po' di sangue. Potevano fare le due versioni come metà slug. Una con l'acqua e una con il sangue. Eh, ma all'epoca, figurati. Eh, in effetti. Pixel che si sbregano. Guarda, guarda. Avete delle spalle orrende? Guarda la spalla sulla spalla così, come se non ci fosse un domani. Chi è? Ma che brutti che sono quei... Occio! 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 Ma è il fullestrack! Ma è il fullestrack! Questo è il tipo... Guarda, guarda, guarda che sta con le spiruline sulle spalle. Guarda, ma quello è Vega di Street Fighter! No, è quello... è il Goblin! Eccolo! È morto, però... Vedo che sta tornando, sta tornando? No, non so, sei andato. L'altro è il fullestrack! Tiè, tiè! Uh! Ecco, siamo bloccati con... Si è bloccato, perfetto! Sai cos'era? Era un momento drammatico. No, esatto, era il classico rallenti per enfatizzare. Diciamo, c'è la... Magari quando ci casca, tiè, topezzo al volo... Enfatizzare l'entrata di sti schifosi, comunque. Uh! Uh! Ecco! Uh! Aspetta che faccio fuori anche il mio di spirulino. Tiè! Che bei rumori. No, volevo l'io risolverlo. Eh, mi spiace. Eh, guarda, è arrivato l'alabardiere! Ma non ci hanno visto che si sono rimasti... Attenzione! Perché è arrivato il boss! È arrivato il boss! È arrivato il boss! Guarda che riesco a vedere anche i singoli proiettili che volano! Che è successo? Il mio sta diventando luminescente! Eh, vabbè! Eh, vabbè! Quindi, per questo... Aspetta, aspetta, si sta riprendendo! Si sta riprendendo! Attaccalo adesso che non se ne accorge che c'è lag! Sì! E' l'uomo uccello, c'è scritto Birdman! Ah, Birdman! Anche... Anche nel Medioevo c'era lag! Senza internet, ma c'era lag! Ecco, si è ripreso! Eh, vabbè! L'uomo uccello mi ha fatto fuori, guardalo lì! Ti sto uccidendo fuori dall'inquadratura! Ah, la vendetta vena! Fammi arrivare, bastardo! Evocato dalla spada! Dov'è, dov'è, dov'è? Ecco, ecco! Ma fallo arrivare, se no non lo riusciamo a prenderlo! No, sono mortissimo! Ah, sai che ti vedi, dico, va! Bastardo! Stato di merda! Vai con Persifal! Eccomi! Persifal! Oddio! Eh, so che... E niente! Proprio quando... Sto volando! Sto volando! Guardami che volo! È morto! Sto arrivando il rappresentante dei Chicago Bulls, poveraccio! Guarda, guarda, guarda! No, è il giocatore torinista! Guarda, guarda! È la mascotta del toro! Eh, niente! Vabbè! Direi che potremmo finire così, con mestizia! Con profonda mestizia! E... Nights of the Bra... 8 frame per secondo! Non ci posso credere! E niente, con questo... Ah, che riscambate! È morto! È morto! È fatto cadere della ro... Eh, vabbè, aspetta! Adesso possiamo andare molto meglio! Guarda, guarda, guarda come stiamo muovendoci agili! Stronzo di merda! Ripigliati! Oh, si è ripreso! Si è ripreso! Almeno a battere questo qui... Almeno a battere un uccello! È andata, è andata! Ecco! È con molto piacere che vi salutiamo e vi diamo l'appuntamento al prossimo venerdì retro! Venerdì rally, ormai! Venerdì slow motion! Dove sto andando? Quanta drammaticità! Quanta drammaticità! Lo sto tagliando con un grissino, aiuto! Aspetta che faccio fuori l'alabardiere! Cosa sta succedendo? Non lo faremo fuori l'alabardiere! E direi di chiudere qua! Sì! Ci rivediamo la prossima settimana con un nuovo episodio di Life for Dead e con tutte le altre serie! E vi ricordiamo che il mercoledì e il giovedì adesso sono casual! Quindi mi raccomando consigliateci dei giochi! Ti raccomando con brio, con brio! Molto brio, molta brianza e molto rallenty anche! Esatto! Vi faccio ammazzare! Ciao a tutti! Ciao! 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 Buon fine settimana! Ecco, proprio adesso che stiamo chiudendo si è ripreso questo figlio di puttana! Ciao! 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 Grazie a tutti.